Stasera nell'ambito delle manifestazioni culturali del programma Caltagirone Jazz in Festival si esibirà sul palcoscenico della scalinata di Santa Maria del Monte Francesca Tandoi uno dei più interessanti talenti della scena internazionale del jazz. A darne notizia il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo. Stasera parte il primo dei tre concerti della seconda edizione del Caltagirone Jazz Festival che vedrà come palcoscenico la Scala Santa Maria del Monte il luogo identitario della nostra città. Il 13, il 14 e il 15 luglio si svolgerà la seconda edizione del Caltagirone Short Film Fest con la presenza di tantissimi attori e attrici di livello e valore internazionale e alla fine del mese di luglio il 28 e il 29 e 30 si terrà la prima edizione dell'Opera Mediterranean Festival alla presenza di 60 artisti provenienti da tutto il mondo e tra i migliori nel campo della lirica. Una estate calatina all'insegna della qualità che io sono certo servirà a rilanciare e a promuovere culturalmente e turisticamente Caltagirone e il nostro tessuto imprenditoriale.